Ci troviamo sotto a Cavalca Ferrovia Ferretti, lato via Leverona e siamo qua a segnalare il degrado dovuto allo spaccio, alla prostituzione e al bivacco. Il rappresentante del locale Comitato dei Residenti ci guida nella parte peggiore del sotto Cavalcavia. La zona più nascosta alla vista è oggi una terra di nessuno dove regna degrado e anarchia. Stiamo barcando uno dei due transenne nella proprietà comunale dove si può vedere alberi potati anni fa lasciati lì e poi tutto quanto, la sporcizia, scarpe, bottiglie, preservativi, siringhe che si può vedere anche entrando verso questa zona qua. E proprio mentre eravamo a documentare il degrado ci siamo imbattuti in alcuni dei frequentatori legati al mondo della droga. Giovani che nonostante fosse pieno giorno, incuranti, proseguono nelle loro attività. Ciò che ci fa più rabbia è questo, che questa zona qua pur sapendo com'è, fino ad oggi nessuno ha mai fatto nulla. Ecco che allora oggi il sindaco Rucco, l'assessore Ierardi e il consigliere Naclerio hanno voluto recarsi qui per accertarsi di persona sullo stato di degrado segnalato dai residenti. Il problema era noto all'amministrazione, però non c'era la cognizione di quanto fosse grave. Il 20 dicembre abbiamo avuto la segnalazione con il Comitato, ho provveduto a cercare una soluzione immediatamente e questo è il primo frutto. Pronte subito le contromisure, un impegno che l'assessore si incarica di eseguire anticipando i lavori di restauro del cavalcavia programmati per giugno. Andremo a chiudere completamente con delle reti da cantiere, sia l'accesso pedonale da un lato che dall'altro, completamente alzando una reti da due metri e mezzo che impedisce qualsiasi tipo di accesso, sia dalla ferrovia che dalla strada. Questa non è la soluzione di tutti i problemi, però intanto è una misura tampone che ci permetterà di trovare la soluzione definitiva quando andremo ad effettuare i lavori di restauro delle pile e delle ponte. Parliamo di date, entro quando farete questo intervento e quali invece i prossimi interventi? Noi consideriamo di riuscire a intervenire e chiudere tutto prima dei 30 giorni. Siamo soddisfatti di questo incontro e ringraziamo sempre il sindaco Rucco, l'assessore Gerardi e il consigliere Nicolò Naclerio che si rendono sempre disponibili per sistemare le cose. Grazie.